la sardegna nel mondo con videolina con la tv dei sardi ovunque un posto in prima fila per informarsi e conoscere la cultura le tradizioni l'identità del nostro popolo videolina e su sky tv sat al canale 819 e sul digitale terrestre al canale 10 la sardegna nel mondo con videolina per un'isola senza confini grazie